4, 3, 2, 1 Entriamo così nel vivo di questa prova riservata alla categoria giovanissima Vai Kevin, vai così, bravo! Vai Kevin, vai, 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 continua a pedalare, continua a pedalare! Junior Cup a Vista E oggi verrà assegnato anche il titolo di campione provinciale della categoria Vai Kevin, così, bravo, amore, bravo! Nel frattempo io... Bravo Kevin, non mollare! Vai, 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 subito, subito! Vai Kevin! Vai Kevin! Inoltre ringraziamo l'amministrazione comunale di Mantua per il patrocinio Ricordo che la manifestazione disporrà delle fotografie realizzate da Alessandro Cari Destra! Mentre per le riprese ricordo che il servizio sarà poi mandato in onda all'interno del Tg Sportivo di Telemantova e le riprese sono realizzate dal regista Massimo Gallesi Vai Kevin, vai che sei primo, vai, vai, continua così! Dai, fra, dai! Vai Kevin, non mollare! Non guardare indietro, Kevin! È un circuito di circa 600 metri Dai, Kevin! Dai, Kevin, non guardare indietro, non guardare! Spingi, amore, spingi così, tutto, tutto, tutto morbido anche, eh! Attento! Pedala, pedala! Dai Kevin, non mollare adesso! Applausi per questi atleti che stanno dando spettacolo Abbiamo quindi con la G1 le varie fasi di questa giornata Vai Kevin, tutta, tutta! Abbiamo già la bici la bici apricorsa è sempre in testa lui ed è Berter Kevin Bria testa a testa per questo finale con uno sprint ed è lui lui Berter Kevin Bria che si aggiudica